Pandemia verso l'istituzione del coordinamento generale della società civile. La consulta civica di Siracusa è pronta ad istituire il coordinamento generale della società civile, un organismo polivalente fondato sul concetto di fare rete, volto a contrastare le conseguenze sociali, soprattutto economiche, causate dalla pandemia da Covid-19, dando sostegno e supporto ai cittadini in stato di necessità. All'appello del Presidente dell'ente civico Damiano De Simone hanno risposto la Croce Rossa Italiana di Siracusa, l'Associazione Nazionale Carabinieri di Siracusa, la FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera di Siracusa, il Centro Ascolto del Disagio di Siracusa, l'Associazione Culturale Arche, l'Associazione Guardiani di Aretusa, il Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere, il SIULP, Sindacato Italiano Unito Lavoratori Polizie di Stato, l'Associazione Wonder as Hemming, l'Associazione Nazionale Vigile del Fuoco, in congedo, Cinofili Archimede. Durante i vari incontri tenuti da un'analisi formulata dal Presidente della Croce Rossa Italiana di Siracusa, Francesco Messina, è sorta l'esigenza di proporre all'amministrazione comunale il censimento della popolazione indigente, con l'obiettivo di raggiungere con certezza e in forma celere attraverso interventi ad acta quella categoria di cittadini che soffrono ordinariamente le difficoltà legate al disagio sociale, quindi poterli distinguere dai nuovi poveri, categoria nata in conseguenza alla crisi pandemica, oggi economicamente in fuorigioco, ma difficili da intercettare se non con la segnalazione privata. Una proposta alla quale si aggiunge quella di Samantha Ponzio, già componente della Giunta Civica, che integra con la categoria disabili. Oggi più che mai in un tale periodo di grave crisi, commenta Damiano De Simone, la società civile organizzata in un sistema di rete rappresenta un conforto per molte famiglie in preda alla crisi e alla disperazione, come anche un'opportunità di reinserimento sociale, ma soprattutto, se ascoltato, conclude De Simone, un valido contenitore di esperienze offerto all'amministrazione comunale, quale strumento di studio e confronto a supporto degli indirizzi politico-amministrativi in città.